Musica Omicidio della piccola fortuna, nuovi disegni esaminati dalla grafologa, la bimba violentata uccisa a Caivano Tratteggiava figure femminili poi cancellate con insistenza Don Antonio Manganiello, già parroco di Scampia, commenta così i fatti di Caivano L'omertà legata al silenzio e alla paura favoriscono l'illegalità Travolto da un grosso tubo in Irpinia, un operaio è cinquantenne e muore sul lavoro Informazioni riservate al CRAN, scoperti due carabinieri, uno in carcere per l'altro divieto di dimora E seguiti a Marano, anche altri tre arresti Allarme bomba a Sarno, scritte bandiere dell'Isis presso il giudice di pace Taglio del nastro nella città di Benevento, della sala operativa dei vigili urbani Sistema attivo, sette giorni su sette, H24 Benvenuti e ben ritrovati ad una nuova edizione del Media News L'abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni Apriamo ancora una volta con Caivano Nei dei segni di fortuna, il disagio e la rabbia della piccola vittima L'amichetta che ha contribuito al fermo del presunto assassino ha confessato Si andavo con chicca, uccideva anche me Il servizio Disegna e cancella con insistenza figure femminili Come fossero una minaccia per lei Disegna finestre con le sbarre, case senza porte, inaccessibili E poi disegna case con due porte che indicano la paura della separazione Ricatto, la necessità di farle mantenere il segreto Manifestava così il suo malessere, fortuna Loffredo La bimba uccisa il 24 giugno del 2014 nel parco verde di Caivano E dalle risultanze delle analisi eseguite dalla grafologa Sara Cordella Incaricata della lettura dei disegni per le indagini difensive sulla tragedia Emerge che chicca nei suoi disegni parla e comunica Quando usa i pennarelli nel palazzo dove vive A casa con le amichette Sceglie colori vivaci e con un tratto marcato Carichi di rabbia, eccitazione e aggressività Secondo il perito di parte Sul suo corpicino durante l'autopsia Sono emersi segni di violenze sessuali Reiterate che la piccola Secondo i magistrati della procura di Napoli Nord Subiva da Raimondo Caputo Il vicino di casa accusato di averla violentata e uccisa Lanciandola dall'ultimo piano del palazzo dove abitava Dopo la sua morte che all'inizio sembrava fosse accidentale L'avvocato Angelo Pisani, legale dei nonni e del padre della bambina E il PM Federico Bisceglia che si stava occupando del caso Deceduto in un incidente stradale qualche mese dopo Avviano una serie di perizie sui quaderni e disegni di fortuna Che nel parco verde chiamavano chicca Consapevoli che è proprio quella la più genuina forma di comunicazione Dei sentimenti dei bambini Don Antonio Manganiello, già parroco di Scampia Incontrando studenti a Pagani Ha commentato così i fatti di Caivano L'omertà legata al silenzio e alla paura Favoriscono l'illegalità Sentiamo Abbattere le distanze, i muri Cercare il confronto ed il dialogo Favorire la socializzazione tra i giovani È uno degli obiettivi che la scuola deve raggiungere Rimanendo uno dei pochi luoghi di aggregazione Oggi ancora in vita Ne è convinto Don Agnello Manganiello Uno dei baluardi della lotta alla criminalità Il prete antica morra Parroco di frontiera a Scampia per 16 anni Sempre in prima linea contro la criminalità organizzata e il malaffare Fondatore dell'associazione per la legalità Ultimi E che ha scelto la strada del dialogo tra i giovani nelle scuole Non concepisco e con sacerdote che si limiti ai suoi impegni legati alla pastorale ecclesiale Sacerdotale all'interno di una parrocchia Quindi ritengo che è importante questo approccio, questa presenza tra le giovani generazioni Perché mi pare che oggi sia rimasto forse una delle poche strategie e opportunità Quello della scuola, all'interno della scuola Per incontrare i giovani generazioni Perché oggi è difficile veramente intercettarli Vivono nel mondo virtuale Vivono di notte Vivono di notte Nei bar fino alle 2, alle 3 di notte Quindi oggi la scuola è diventata l'unico momento, l'unico spazio Dove poter dialogare con i ragazzi Allora penso che su questo sia bene investire La soffortuna, lei è intervenuto Sono stato a Scampia 16 anni Però sia allora che oggi, anzi ancora peggio oggi È in corso un processo nella nostra terra di integrazione della illegalità A cui si sposa l'omertà Non è possibile che al Parco Verde nessuno abbia visto, nessuno abbia sentito qualcosa Cioè questa omertà è veramente devastante Perché l'omertà che è legata anche a, ovviamente, silenzio E' paura, è motivata anche dalla paura E quindi questo favorisce il radicarsi, lo svilupparsi della illegalità Ma anche di episodi di questo genere che sono da condannare Ma anche favoriscono la camorra, l'illegalità Cioè non si dice, non si parla per paura Che la polizia metta gli occhi Sia più presente E che questo possa poi danneggiare lo spaccio di droga Cioè siamo all'inverosimile Cinque misure cautelari, tra cui un arresto in carcere Un altro ai domiciliari Sono state notificate dai carabinieri di Ponte Corvo Provincia di Frosinone A persone accusate di detenzione e cessione di ingenti Quantità di sostanze stupefacenti nelle province di Caserta e Frosinone Le indagini che hanno portato all'emissione delle misure cautelari Da parte del GIP e del Tribunale di Santa Maria Capovetere Sono state condotte dai militari laziali Tra l'ottobre del 2014 e marzo 2015 Il professore in pensione di 77 anni è stato ritrovato cadavere Potrebbe essere stato un malore a provocare la sua morte Ipotesi che ovviamente dovrà essere confermata Dalle indagini e dagli accertamenti medico-legali disposti dal magistrato L'uomo di Calvisi, frazione di Gioia Sannitica Era all'interno della sua auto in sosta Lungo una stradina poderale La quale si accede dopo aver lasciato la provinciale Che da Cerrito conduce a Guardia San Framondi A scoprire il corpo del professore è stato un cercatore di funghi Che ha fatto scattare immediatamente l'allarme Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Cerrito Sannita Inutili purtroppo i soccorsi I militari della compagnia di Piedimonte Matese Che avevano avviato le ricerche Hanno raggiunto la Valle Telesina con i parenti dell'uomo Un laboratorio clandestino per la produzione di scarpe Ubicato in un locale semiterrato E' stato sequestrato dai carabinieri del nucleo operativo ecologico A Trentola 200 nel Casertano I militari hanno accertato che il laboratorio attivo da marzo 2015 Era del tutto privo di autorizzazioni E non aveva mai eseguito una corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti Quando hanno fatto eruzione nel laboratorio infatti I carabinieri hanno constatato la presenza di rifiuti Costituiti da scarti di lavorazione intrisi di collanti Nonché di confezioni di solventi catalogabili come speciali pericolosi Conferiti in normali sacchi neri per la spazzatura C'era inoltre un lavoratore senza contratto Con un complice ha sequestrato e derubato un automobilista Nel Salernitano lo scorso mese di aprile I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore Hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelaria Gli arresti domiciliari emessi dal GIP del locale tribunale Su richiesta della Procura della Repubblica Nei confronti di Giovanni Barbato Crocetta A 23 anni discafati Già noto alle forze dell'ordine Ritenuto responsabile di sequestro di persona Rapina e lesioni personali aggravate Reati commessi insieme ad un altro pregiudicato Già arrestato nel mese scorso Travolto da un grosso tubo in Irpinia Un operaio di 50 anni è morto sul lavoro I dettagli Un operaio di 50 anni ha perso la vita Mentre lavorava in un cantiere Alla periferia di Montella In provincia di Avellino Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri L'operaio RM Queste le sue iniziali Sarebbe stato travolto da un grosso tubo Mentre stava lavorando In contrada Barano All'allacciamento della rete fognaria L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 Insieme ai sanitari del 118 Sono intervenuti i vigili del fuoco Che hanno recuperato il corpo della vittima A 4 metri di profondità Il procuratore capo di Avellino Rosario Cantelmo È giunto sul posto Insieme al PM Cecilia De Angelis Per coordinare le indagini E stabilire eventuali responsabilità Una morte bianca L'ennesima Spesso questi incidenti si verificano In cantieri di lizi abusivi In particolare in quelli di piccole dimensioni E l'evento lesivo Si accompagna quasi sempre Alla violazione della normativa antinfortunistica Molte delle vittime Sono operai al nero Spesso extracomunitari Per i quali è prevalente La preoccupazione di conservare Il posto di lavoro Su quella di lavorare In condizioni di assoluta sicurezza Sarebbero necessari dunque controlli E la repressione sui cantieri abusivi E un invito va fatto anche ai cittadini A denunciare situazioni sospette Soprattutto in questo periodo Che con l'avvicinarsi dell'estate Si assiste ad un diluvio di mini cantieri Per la realizzazione di opere abusive Allevamento di cani illegale Sequestrato sempre in Irpinia Nella struttura 37 animali Anche farmaci scaduti Due i denunciati Il servizio Una struttura illegale Destinata all'allevamento E alla vendita di razze Canine di pregio È stata sequestrata da Vellino Dai militari della Guardia di Finanza di Baiano La struttura ospitava 22 esemplari Di bulldog inglesi Francesi e maltesi E chihuahua In stanze chiuse Senza reazione Con spazi divisori delimitati Da strutture metalliche arrugginite All'interno sono stati anche trovati Farmaci veterinari scaduti E i pet passport Che attestavano la provenienza Degli animali dai paesi esteri Nel corso dei successivi accertamenti Svolti dai finanziari In collaborazione con il personale Dell'ente italiano Tutela animali e legalità In casa dei due responsabili Marito e moglie Di nazionalità ucraina Residenti a Quadrelle Sono stati trovati altri I 15 esemplari Tenuti in pessime condizioni I responsabili Sono stati denunciati Per maltrattamenti di animali E introduzione illegale Nel territorio italiano I 37 esemplari Tra cui numerosi cuccioli Sono stati sequestrati E affidati ad una Ollus Che opera nel settore I carabinieri Della compagnia di Baiano Nell'ambito di servizi Finalizzati al contrasto Della detenzione spaccio Di sostanze stupefacenti Hanno segnalato Alla prefettura di Avellino Sei persone sorprese In possesso di droga Informazioni riservate al CRAN Scoperti due carabinieri Uno in carcere Per l'altro divieto di dimora E seguiti a Marano Anche altri tre arresti Sentiamo insieme i dettagli La Camorra pagava mazzette A due carabinieri Per avere informazioni riservate Anche riguardo a operazioni Anticrimine E' quanto ha scoperto Il nucleo investigativo Dei carabinieri di Napoli Che ha notificato Cinque arresti E un divieto di dimora Ad altrettante persone Tra cui figurano Tre pregiudicati Ritenuti legati Ai clan Polverino Nuvoletta E al gruppo emergente Degli Orlando Attivi nella zona di Marano E' una persona Che faceva da intermediario E ai due militari coinvolti Le persone finite in cella Sono il carabiniere Angelo Cantone 35 anni I pregiudicati Angelo Di Maro 37 anni Francesco Stipe 49 Che si trovava ai domiciliari E Massimo Donofrio Di 42 anni Il GEPA Disposti domiciliari Per all'intermediario Domenico De Martino 68 anni Mentre per l'altro carabiniere Francesco Papa 36 anni E' stato deciso Il divieto di dimora A Napoli Caserta E nelle rispettive province L'arma dei carabinieri Ha sospeso immediatamente Due militari coinvolti Nell'inchiesta Si tratta di un carabiniere Semplice Di un graduato I pregiudicati Finiti in carcere Si occupavano prevalentemente Di traffico Di sostanze stupefacenti Mentre l'intermediario Si stava operando Per agevolare Il trasferimento Di uno dei due Carabinieri Coinvolti Nell'inchiesta Partita nel 2015 E coordinata Dalla direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Nel nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna Competente Per le indagini Sulla criminalità Nella zona di Marano Le informazioni riservate Recuperate anche attraverso Accessi illeciti Alle banche dati Delle forze dell'ordine I reati contestati Sono tutti aggravati Dalle finalità mafiose Nel corso Dell'attività investigativa Sono stati sequestrati 80 chili di droga Tra hashish E marijuana Una pistola Salve calibro 9 E 4.890 euro In contanti Allarme bomba A Sarno Scritte e bandiere Dell'Isis Presso il giudice di pace Sentiamo Ufficio del giudice di pace Di Sarno Dunque chiuso Precauzionalmente Udienze sospese Ancora una volta E sempre per lo stesso motivo Anche questa mattina Gli addetti Hanno rinvenuto Una bandiera nera Come quella Che inneggia Il gruppo terrorista Dell'Isis Oltre ad un pacco Sospetto All'interno del quale C'era un foglietto Con suscritto frasi Che osannavano L'Isis E un pezzetto Di stoffa scuro Stavolta però La città di Sarno Si è risvegliata Con scritte pro-Isis Ma anche offensive Nei confronti Del governo E dell'amministrazione Comunale locale Lasciate sui muri I carabinieri Del reparto territoriale Di Nociera Inferiore Guidati dal Maggiore Calandro E quelli di Sarno Stanno indagando Sui fatti Per capire Se dietro Alle scritte offensive E al pacco Lasciato davanti Alla struttura Del giudice di pace Si cieli la stessa mano I carabinieri Sembrano convinti Che non ci sia Nulla di organizzato Dietro tutto questo Ma soltanto Qualche personaggio Che sta cercando Di creare scompiglio Incutendo timore Tra la gente Insomma La mano Di qualche balordo Le scritte Realizzate Con l'utilizzo Di bombolette spray Hanno rovinato I muri della città Del teatro comunale E dell'ufficio Del giudice di pace Bisogna Arginare Questi atti Di vandalismo Che infangano L'immagine Della città E a proposito Di sicurezza Taglio del nastro Nella città di Benevento Della sala operativa Dei vigili urbani Sistema attivo 7 giorni su 7 H24 Il servizio Inaugurata la presenza Delle autorità La sala operativa Del comando Della polizia Municipale Di Benevento Il sistema Di video Sorveglianza Consta Di 52 Telecamere Ad alta definizione Con visione A 360 gradi Disposte Nelle zone Principali Della città E in una zona Asi Ognuna Con 4 obiettivi L'impianto Registra 7 giorni su 7 H24 Immagini Che vengono Trasmesse Sui 6 schermi Della sala operativa In più a disposizione Ci sono due telecamere mobili Che possono essere posizionate Ed utilizzate Temporaneamente Sia sulle auto Sia in luoghi Ritenuti strategici Per il monitoraggio E la prevenzione Di alcuni tipi di reati Come quelli ambientali O legati Agli atti vandalici Insomma Le tecnologie più innovative Sono un alleato importante Per coadiuvare Le forze dell'ordine Nel loro lavoro Di monitoraggio della città Per il mantenimento Di alti livelli Di sicurezza E decoro urbano Un aiuto concreto Al lavoro del prefetto Paola Galeone Della polizia municipale Con il comandante Giuseppe Moschella Al servizio della città E dei beneventani Presentato in una sala consigliare Gremita Il libro di Gianluca Petrucci Dal titolo Faicchio 1920-1946 Dall'avvento del fascismo Alla nascita Della Repubblica Alla presenza di storici Appassionati del territorio Il giovane autore Ha raccontato Come è nata l'idea E come ha svolto Le sue ricerche Non perdete Il nostro approfondimento Nella rubrica Eventualmente Subito dopo Il media news E siamo ora Alla pagina sportiva Sapere che la Roma Stava perdendo E poi vincendo Può aver influito Sul morale della squadra Per questo siamo partiti Forse un po' contratti Poi però Nella ripresa Abbiamo giocato Sui nostri migliori livelli Credo che in questa fase Della stagione Dovrebbe essere obbligatorio Far giocare noi E la Roma In contemporanea Torna a parlare Con il sorriso Dopo quasi un mese Di silenzio Maurizio Sarri Che comenta Il successo Del Napoli Contro l'Atalanta Un successo Che assicura I due punti Di vantaggio Sulla Roma Serie B Riprende la preparazione In casa Bianco Verde I Lupi Dopo la vittoria Contro il Lanciano Hanno cominciato a preparare Nel migliore dei modi L'incontro di sabato Con il fanalino Di coda Como Già retrocesso Attilio del Serra Proverà a recuperare Qualche elemento Per questa sfida Lega Pro Girone C Giallo Rossi Di mister Auteri In campo Oggi pomeriggio Per preparare la gara Di sabato prossimo Fischio d'inizio Alle ore 16 Contro la formazione Dell'Acragas Seduta a porti aperte Sul rettangolo verde Di Paduli Ed era questa L'ultima notizia Io vi lascio Come sempre In compagnia Delle previsioni Del tempo E poi del nostro Speciale Eventualmente Dedicato proprio Alla presentazione Del libro Di Faicchio Arrivederci Alla prossima edizione Previsioni Previsioni per mercoledì 4 maggio Veloce passaggio instabile Al centro sud Bel tempo invece Con cielo poco numuloso Sul resto d'Italia Ecco il dettaglio Preparato da ilmeteo.it Al nord Sarà bel tempo Con cielo in prevalenza Sereno Poco nuvoloso Su tutte le nostre Regioni Spostiamoci al centro Dove invece avremo Veloci piogge O brevi temporali Su Abruzzo E Molise Piovaschi Anche sul basso Lazio Bel tempo soleggiato Sul resto delle regioni Raggiungiamo il territorio Del sud Dove avremo tempo Un po' instabile Con precipitazioni Alternate a schiarite Su gran parte Delle nostre regioni Qualche temporale Sul Gargano E sullo stretto Di Messina Più soleggiata La Sicilia I venti saranno Da settentrione Su tutti i bacini Concludiamo con le Temperature previste Per questa giornata Del 4 maggio Minime che risultano Essere in locale Aumento I valori saranno Compresi tra 5 e 15 gradi Su tutte le nostre Regioni Durante il giorno Invece prevediamo 17-22 gradi Al nord E anche al centro E fino a 23 gradi Sulle regioni Meridionali Per questa giornata Per questa giornata Per questa giornata E va dire Quasi ci sono Nitor Si Che Come